Dal Vangelo secondo Luca Ma essi risposero, non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse a sui discepoli, fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese cinque pani e due pesci, alzò gli occhi al cielo, reggitò su di essi la benedizione. Gli spezzori dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. Dodici ceste. Grazie. 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 Grazie.